Amici di Euromusica, è per me un grandissimo piacere ospitare qui questa sera un'artista che abbiamo avuto modo di conoscere sia qualche anno fa, nel 2018, a Sanremo Giovani e ultimamente abbiamo avuto modo di rivederla sul palco di X-Factor. Sto parlando ovviamente di Marte. Ciao Marte, bentrovata. Ciao, grazie mille. Sono contenta di essere qui, anche se virtualmente, ecco, insieme virtualmente. Venerdì è uscito il tuo ultimo singolo, ti va di raccontarlo? Sì, allora, si chiama Conchiglia, è un pezzo a cui sono molto legata, anche perché, allora, tempo fa è uscita, sarà per sempre, dopo il primo maggio, ma che comunque era legata a un discorso un po' diverso, era un pezzo scritto tempo fa. Invece Conchiglia è più recente, l'ho scritta poco dopo il lockdown, appena c'è stato un po' di libertà, ecco. e nulla, parla di desideri, ecco, generico. C'è qualcosa che desideri in particolare in questo momento? Ma, in questo momento, sono abbastanza, sono contenta, sono contenta. Beh, una vacanza non sarebbe male, non sarebbe male, però, no, sono contenta per com'è andata l'esperienza X Factor, sono contenta per l'uscita, appunto, di Conchiglia e sto ricevendo tanto calore, tanti messaggi e mi sembra che stia piacendo, quindi, bene. Era più, cioè, Conchiglia, per i fattori desideri, eccetera, era più legata a un... voler dire qualcosa, voler esternare un'irrequietezza, diciamo, che, appunto, è venuta, è uscita nella scrittura del pezzo. Questo. Hai parlato, giustamente, della tua esperienza, e durata poco, devo dire, e meno di quanto potessi aspettarmi a X Factor. Dal tuo punto di vista, come è stata, o me l'hai vissuta? Ma, vabbè, è stato bello. Appunto, poteva essere più lunga, ecco, sono quello. Io, vabbè, non è che abbia questo... non è che avessi questa esigenza, ecco, di fare un talent. Non è un discorso che mi... cioè, non è una roba che avevo in mente da tempo. Se non ci fosse stata una questione, appunto, Covid, lockdown, e di conseguenza anche tutta questa difficoltà che c'è in questo momento per la musica live, avrei fatto anche a meno. Però è stato... è stato bello, ho conosciuto tanta gente interessante, e, vabbè, comunque arrivare ai bootcamp, dai, ci sta. Si poteva andare un po' più avanti, sarebbe stato meglio, però, cioè, prendo il buono di quello che mi ha dato, ecco. Hai parlato prima del tuo precedente singolo, Sarà per sempre, e hai parlato anche, ovviamente, del primo maggio, che abbiamo visto proprio sul palco del concertone del primo maggio. Un'altra esperienza, immagino, molto particolare, sul palco storico. Sì, è stato bello. È stato bello anche perché, vabbè, appunto, arrivavo, ma come, insomma, un po' la maggior parte degli emergenti, come me, da un periodo in cui riuscire a suonare è veramente difficile, e c'era questo concorso nel primo maggio Next, che appunto viene fatto per gli artisti emergenti, per poter partecipare. Io, un po' a caso, ho detto, vai, ci provo, vediamo come va, non pensando minimamente di, né di passare la prima fase, né la seconda, né la terza, né di arrivare lì, e invece, cioè, è stato, cioè, ce l'ho fatta, incredibilmente, ed è stato bello suonare. Ecco, questo è il mio gatto che fa cadere cose, intanto, se sentite i rumori, scusate, è stato bello, non pensavo, vai Paolo, non pensavo di, di arrivarci, e nulla, è stata una bella emozione, è stata una bella emozione, mi mancano i palchi. Prima, però, ti abbiamo sentito anche da un'altra parte, facciamo un salto indietro nel tempo, 2018, eri a Sanremo Giovani, è presentato Nella mia testa, un brano, e forse, per certi versi, qualcuno potrebbe definire una canzone scema, citando il testo, però in realtà non è per niente scema. è un pezzo veramente di quelli particolari, cioè di quelli che o li ami o li odi, non c'è sfumatura, non c'è via di mezzo, è veramente così. Era stato scritto da Andrea Bonomo, e Chiara Valli, Luca, che l'ha anche prodotto, e è stato anche un altro bel traguardo, anche perché arrivo da niente, arrivavo veramente da niente, è stata la prima cosa, primo singolo, primo tutto, e sì, è stato bello. C'è qualcosa in particolare, e vuoi raccontare, o la tua musica? Ma allora, io, cioè a me quello che viene da dire, è quello che, che vivo, come magari vorrei, che le cose fossero, diverse, o magari semplicemente, quello che sto vivendo, in un determinato momento. Per me è importante comunicare, cioè che quello che comunico, sia vero, non, non sono un personaggio, particolare, che, cioè, non lo so, non voglio raccontare cose, di cui non, di cui non conosco. Per me, la, cioè, la necessità è che, eh, è diffondere, in qualche modo, è il mio pensiero, no? A più o a meno persone, però, eh, raccontare la mia verità, non mi va di dire, cose che non credo realmente. tra l'altro, tu sei una di quelle artiste, e, non hanno la musica, o passione, diciamo così, hai anche un, un altro lavoro principale, diciamo così. Eh, per forza, per forza, in questo momento, sì, come ho detto anche a X-Factor, faccio, insomma, la, la segretaria, per, eh, tirare avanti, e, sì, purtroppo è una cosa che, eh, prende anche, toglie anche molto tempo, alla musica, però, insomma, si cerca di fare entrambi, si cerca di fare entrambi, per fare in modo che, un giorno, insomma, le due cose diventino una sola, ovvero, c'è la musica, poi fare la segretaria, chi se ne frega, insomma, eh, dai, questo, vabbè. Ma, ti è mai capitato di essere riconosciuta da qualcuno, a lavoro? Beh, a lavoro mi hanno vista, hanno visto che, sì, stavo facendo questa cosa, sì, mi hanno beccata, perché io ho fatto tutto in sordina, cioè, non avevo detto niente a nessuno, però mi hanno beccata, ma dopo X Factor, perché, una delle cose che faccio, tendenzialmente nei weekend, è basking, quindi andare a suonare, in giro, per strada, e dopo X Factor, mi hanno, mi hanno riconosciuta, questo è stato, strano, è stato, bello. E sensazione è stata? Cosa? Volevo di essere riconosciuta, per strada? Ma, cioè, allora, è che io viva per la fama, nel senso, però, no, vabbè, è bello, mi ha fatto, cioè, mi ha fatto piacere, un po' galvanizzante, più che essere riconosciuta, spero di essere, in qualche modo, arrivata, a chi mi ha, mi ha sentito, o a chi si è incuriosito, ed è andato a sentirsi, qualcosa altro di mio, ecco, preferisco quello. Bellissimo, bellissimo, l'ho appena detto. Grazie. Veramente, no, credo davvero. Veramente, è particolare, perché si vede proprio la passione, e ci metti nel racconto, nelle tue canzoni, e nella tua musica in generale. Grazie, mi fa piacere, sono contenta. Ecco, appunto, di queste, cioè, preferisco questo, preferisco che arrivi il lato artistico, poi c'è nel resto, insomma, so che sicuramente c'è tanto lavoro da fare, ma c'è la passione per farlo, ecco, quindi. Nei tuoi ultimi simboli, c'è la collaborazione di Esposito, un bel solarizio artistico, e non solo. Sì, sì, condividiamo tutto. Vabbè, stiamo insieme da un po' di tempo, è lui che mi ha spinto, e mi ha spronata, tanto a, nella scrittura, nel provare a mettermi in gioco con la scrittura, che era una cosa che, prima non, non facevo, non, non mi è mai venuto molto spontaneo, ho sempre avuto un po' questo blocco, del tipo, cioè, del far capire all'altra persona quello che sto provando. Io non sono molto espansiva, non racconto a tutti quello che succedo, quello che succede, come lo vivo. E quindi, la scrittura è sempre stata, ho sempre avuto un po' questo blocco. Invece, lui mi ha, mi ha spronata a farlo, e, e mi aiuta, mi aiuta nel farlo. E appunto, sì, sarà per sempre, abbiamo scritto insieme, con chi l'abbiamo scritto insieme, e ci sono veramente un altro mare di canzoni, che, che abbiamo scritto insieme, e che spero di farvi sentire presto. E noi speriamo di sentirle presto, anche perché, diciamo, le tue canzoni sono letteralmente, una tira l'altra, ne ascolti una, e poi le vuoi ascoltare tutte. Ah, grazie, che bello. Io, io naturalmente adesso ti ringrazio per la disponibilità, e spero di sentire al più presto qualcosa di nuovo, visto, e dopo, dopo, dopo questo tuo ultimo singolo, spero, e sa qualcosa di nuovo, quanto prima. Come ti ho detto, la tua musica è una, è forse, una delle, sei una dei pochi artisti, di cui si riesce ad ascoltare, quasi in modalità, utilizzo un termine della serialità televisiva, in binge watching, possiamo dire, quindi uno dopo l'altro. Esatto. Grazie. Sono contenta, mi fa piacere, ogni tanto, non, non pensavo di poter fare questo effetto, ecco, grazie. È bello, stimolante, stimolante. Allora, chiudo con un'ultima domanda, progetti futuri, hai in mente qualcosa, c'è qualcosa che bolle in pentola? Ma allora, sicuramente, appunto, come ti dicevo, ci sono tanti pezzi scritti, quindi spero di riuscire a farveli sentire a più presto, e magari di suonare in giro. covid permettendo, e restrizioni permettendo, però, il progetto è questo, scrivere, pubblicare, suonare. Va benissimo, grazie ancora per la disponibilità, invito tutti i nostri lettori ad ascoltare l'ultimo singolo di Marte, con Ilia, ma anche gli altri, naturalmente, sarà per sempre, anche nella mia testa, è un po' più vecchiotto, però comunque, è sempre piacevole da ascoltare, questo è quanto, speriamo di risentirti presto. Grazie mille, grazie a te per l'intervista, mi ha fatto molto piacere, è stata bella, bella, e grazie a tutti.